Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Calcio Toro, finalmente qua in un nuovo video dopo, insomma, un'astinenza durata, non lo so, due settimane circa, insomma, ho mancato gli ultimi due post partita per impegni vari, uno perché ho visto la partita in treno e l'altro francamente neanche ricordo. Ah già, perché avevo fatto una live durata due ore in cui avevo detto tutto, poi ero stanchissimo, insomma, trovate tutto su Instagram. Comunque, in ogni caso, un nuovo video, un nuovo video per parlare di un argomento, ma neanche troppo piccante, veramente una cosa su cui batto da mesi, ma non solo io, una cosa su cui battiamo tutti da mesi, che è la questione esterni. Ora, ci sono quattro giocatori che, francamente, a parte De Silvestri e Laxalt, penso possano giocare sia a destra che a sinistra. Dunque, De Silvestri, uno l'ho detto, Laxalt anche, Ansaldi e Olaina, quattro, ma c'è posto solamente per due, una a sinistra e una a destra. Ora, chi devono essere i due titolari? Dunque, questa è una domanda che ci stiamo ponendo, penso, da quando è arrivato Diego, anzi, Diego Laxalt, che è sicuramente un giocatore che non apprezza per nulla la panchina, anzi, è un giocatore estroverso, un giocatore che vuole dare il suo contributo alla squadra, ed è un giocatore che, per le caratteristiche che ha e per quello che ha dimostrato, merita di dare il contributo alla squadra. E dunque, e dunque, chi devono essere i titolari? Ripongo la domanda e rispondo questa volta. I titolari devono essere Laxalt a sinistra e Ansaldi a destra, la partita contro Napoli, una sentenza sotto questo punto di vista. Ci dà un sacco di indicazioni tattiche, soprattutto sul fatto che uno, Verdi, funziona. Funziona, sta cominciando a rodare, adesso quando entrerà perfettamente in condizione sicuramente riuscirà a dare una mano ancora più grande di quella che sta dando attualmente, ma due, due, le corsie laterali devono essere occupate da Ansaldi e Laxalt. E perché da Ansaldi e da Laxalt? Perché se vige la regola del quello più in forma gioca, secondo Mazzarri, allora quelli più in forma devono giocare. E quelli più in forma sono nettamente Ansaldi e Laxalt. Anche perché Lolo, oltre ad avere l'influenza, è un giocatore che ultimamente non sta fornendo delle prestazioni allettanti. Ed è vero che è avanti con l'età, è vero che deve entrare ancora in condizione probabilmente, però insomma abbiamo iniziato la preparazione il 4 di luglio. Di conseguenza io penso che tempo gli è stato dato, titolarità gli è stata data. Già dal Debrezen non mi aveva convinto, perché il Debrezen ha convinto pure Meite per dirvi. Quindi di conseguenza insomma ragazzi, per quanto riguarda Lollone io gli farei fare un po' di panchina perché se la merita un po', diciamo onestamente. Mentre l'altro è Olaina. Ragazzi Olaina stagione disastrosa per il momento, sono passate pochissime partite, 7 più quelle dell'Europa League. Ma il giudizio sulla stagione di Olaina attualmente è orribile, disastroso veramente, deludente sotto tutti i punti di vista. Io veramente l'anno scorso sì, era un po' acerbo ecco, ma insomma ha detto sì riscattiamolo, 10 milioni, sì sono tanti ma si può fare. È un giovane che può crescere, può diventare forte. Però per il momento non mi sta dando le garanzie necessarie, insomma commette diverse sbavature, è disattento. Fisicamente e anche a livello tecnico è un mostro sulla carta. Poi quello che dimostra in campo è ben diverso ragazzi, questo lo sappiamo. Perché a parte qualche controllo fantastico per impedire che la palla uscisse contro il Parma anche con il Napoli qualche volta, per il resto poca roba, sì qualche spinta, qualche incursione là davanti, ma alla fine sbaglia sempre il passaggio fondamentale. Alla fine in difesa non dà garanzie, non dà coperture. A differenza di loro non è che forse De Silvestri è una cosa che fa bene e magari coprire bene in fase difensiva, ma pure quella insomma. Di conseguenza Ansaldi è l'Axalt. Ragazzi Ansaldi insomma non ha bisogno di presentazione, è un giocatore spettacolare. È un giocatore che probabilmente è tra i più incisivi della Rosa, sicuramente il terzo, secondo, primo. Non lo so se la gioca con Belotti e Sirigu chiaramente, e anche Izzo, però è un giocatore che veramente senza lui, partite disastrose, ma è sotto gli occhi di tutti insomma. È tornato lui, la squadra acquisisce potere, come dire, si rassicura un po', insomma guadagna autostima anche secondo me. E soprattutto tecnico, abile nei cross, nell'uno contro uno è devastante. Io non ho mai visto un giocatore, oh vi dico, di Fottorino da, non lo so, tantissimi anni, e io non ho mai visto un giocatore così bravo nell'uno contro uno, seriamente. Cioè Peres offensivamente era fortissimo, ma nell'uno contro uno come assaldi mai, mai, veramente. Li salta a tutti, penso non abbia fallito un uno contro uno, quasi mai li fallisce, mai. Anche contro la Juventus li faceva bene. Quindi di conseguenza è un giocatore del quale non ci si può proprio privare, anche perché pure dietro è utile, torna Ansaldi. E poi l'Axalt. L'Axalt è un giocatore che sta dimostrando tanto, un giocatore che deve giocare, un giocatore che deve rilanciarsi, e gli vanno dati i giusti spazi. E di conseguenza, so che Mazzarri ha improvvisato Ansaldi a destra e ha messo l'Axalt a sinistra solamente per l'influenza di De Silvestri, ma vedendo i risultati, io direi che contro l'Udinese a Udine serve una riconferma di questo tipo. Perché, ragazzi, bisogna alzare l'asticella e quindi bisogna inserire anche i nuovi acquisti che sono stati presi per fare i titolari. Ragazzi, l'Axalt secondo voi è stato preso per fare la riserva di Ansaldi, per poi mettere De Silvestri a destra. Ansaldi si sposta a destra e l'Axalt gioca a sinistra. Tanto Ansaldi è duttilissimo, ma non è come Berenguer che è duttile, gioca in tutti i ruoli e male. Li fa tutti alla grande, anche interno di centrocampo, l'anno scorso l'abbiamo visto. Contro il Genoa, se non sbaglio. Comunque, sì, giù di lì. E niente, questo era il video, volevo parlare della situazione esterni, poi ci sarà un video probabilmente anche per Udinese a Torino prima. E poi ho reso conto dalla mia esperienza allo stadio. Comunque, ragazzi, veramente non vedo l'ora che il campionato riprenda, perché contro Napoli ho visto veramente un bel toro, un toro che ci crede, un toro che sicuramente crede di più nei propri mezzi, ecco, anche offensivamente non ha paura, continua ad attaccare, è un toro che fa la partita, certo possesso palla inferiore, ma contro Napoli in casa, vedendo anche i risultati delle stagioni precedenti, sono soddisfatissimo di questo 2-0, ero però chiaramente un po' deluso, amareggiato, perché deluso, perché ci si poteva, insomma, potevamo vincerla noi questa partita, ecco. E niente, fatemi sapere voi che cosa ne pensate della situazione esterni, e niente, un saluto da Calciotore, ci vediamo per il prossimo video, ciao ragazzi, eh!